Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale siamo qui oggi per il ritorno dei pronostici di Serie B giornata numero 35, giornata importante ragazzi di fronte abbiamo tante partite interessanti sconti diretti soprattutto anche sia per una retrocedere sia anche per la promozione diretta e poi match importanti mi raccomando però, prima di partire col video e con i pronostici vi devo chiedere un pollicino in su qua sotto, 30, 40, 50, 60 mi piace per supportare i miei contenuti un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi mi raccomando iscrivetevi, questo è un canale che parla solo unicamente di Serie B e noi partiamo subito partiamo col diri, con le sue mie parti che ho scelto ho scelto Venezia Cremonese, Ternalascoli, Sampdoria Como, Cosenza Bari e direi ragazzi di chiudere con un bel Pisa Catanzaro non partiamoci in chiacchiere, incominciamo subito e cominciamo da Pisa Catanzaro in cui vi dico che per me il Catanzaro può vincere a Pisa X2 ho pareggio, ho vittoria del Catanzaro per me entrambe le squadre andranno in gol abbiamo un Catanzaro quinto a 56 punti un Pisa nono a 44 punti il Pisa ha un punto solo in meno rispetto alla Samp che occupa l'ottavo posto e che ad oggi giocherebbe i playoff è una gara importante per il Pisa un bel test per capire anche a che tipo di livello è arrivato il percorso di Aquilani contro una squadra di rivelazione che si giocherà i playoff al 99,9% e che sicuramente ha ancora l'ambizione di poter arrivare a quarta quindi andare direttamente alle semifinali visto che la distanza sulla Cremonese è di 4 punti Cremonese che giocherà proprio contro il Venezia anche lei domani ore 20 e 30 passiamo proprio a Venezia-Cremonese una gara importante per il Venezia perché può continuare a sperare in un passo falso nel Como nel caso loro vincessero e quindi può rimanere accesa la speranza secondo posto per la Cremonese per consolidare comunque il quarto posto per sperare di prendere altri tre punti al Venezia quindi potenzialmente portate almeno uno difficilmente per me la Cremonese può arrivare ancora a seconda visto la distanza che c'è dal Como e visto quante poche partite mancano ed è per questo che è una gara molto importante per la Cremonese per in ottica terzo quarto posto per il Venezia per rimanere aggrappato a un Como che comunque avrà una trasferta complicata il mio pronostico è un 1 del Venezia credo fortemente nella vittoria della squadra di Vanoli proseguiamo proprio con Sampdoria-Como trasferta per il Como insidiosa è la gara più complicata che la squadra di Roberts da qui a fine del Campo e questa è la partita in cui il Venezia può sperare vincendo che il Como inciampi in risultato negativo contro la Sampdoria-Pirlo che si gioca tantissimo che si gioca l'accesso ai playoff un ottavo posto a difendere ha un settimo posto a conquistare distante solo un punto quello del settimo posto occupato dal Brescia è una squadra quella di Pirlo che comunque non vince da tre partite con due sole punti raccolti di fronte avrà una macchina perfetta fino a questo momento il Como di Roberts con cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite è sicuramente una gara molto complicata e credo che possa finire con una vittoria del Como ma mi tengo anche ragazzi l'X per la Sampdoria per me la Sampdoria un pareggio può strapparlo certo è che sarebbe per me clamorosa una vittoria dalla squadra di Andrea Pirlo proseguiamo e chiudiamo con i due scontri diretti per la salvezza il primo è Cosenza-Bari Cosenza a quattordicesimo a 39 punti il Bari sedicesimo a 36 punti il Bari ad oggi farebbe il play-out con lo Spezia il Cosenza invece sarebbe salvo senza neanche fare il play-out un Cosenza che se vince è la grande opportunità di superare quota 40 punti portarsi a 42 di staccare il Bari definitivamente per la fine del campionato perché si porterebbe con una vittoria ragazzi a quota a più 6 punti dal Bari di Giampaolo per il Bari è un'ultima occasione è un'ultima spiaggia per cercare di tornare alla vittoria pronosticarla difficilissima io penso proprio che possa finire in pareggio questa partita perché sono gare troppo tirate la paura di non perdere sarà enorme ed è per questo che poi penso alla fine possa terminare con un pareggio e anche con pochissime emozioni proseguiamo con Ternan Ascoli e chiudiamo il video Ternan Ascoli uno secolo da Ternan credo fortemente che la squadra di Roberto Breda possa vincere in casa contro l'Ascoli Ternan che ha 37 punti con la vittoria andrebbe a 40 Ascoli ragazzi che è diciottesimo a quota 34 punti 3 pareggi consecutivi nell'ultima 3 certo che per l'Ascoli è un po' un'ultima spiaggia obbligato a vincere se vuole veramente salvarsi pollicione sul video iscrivetevi al canale noi ci becchiamo al prossimo contenuto bella ragazzi